ciao a tutti stelline benvenuti in un nuovissimo video benvenuti o bentornati e naturalmente per chi non è ancora iscritto iscrivetevi mi raccomando lasciate un like se mi piacciono se vi piacciono i miei video e partiamo subito con questo video all di nkd nk di qua c'è anche la borsona bellissima che mi hanno dato naturalmente questo acquisto ecco qua lo scontrino io le ho fatti ho speso ben 133 euro ragazzi l'ho fatto il 12 marzo poco prima che chiudessero tutti i negozi per il lockdown ovviamente vediamo se qua riesco anche se me la mette a fuoco ok quindi partiamo subito e vi faccio ora vedere tutto quello che ho comprato cose stupende io adoro questo marchio benissimo adesso mollo qui lo scontrino che vedete è chilometrico è veramente lunghissimo tra l'altro qua vi sto facendo vedere il mio reparto diciamo così profumi poi gioiellini molte volte mi avete anche chiesto di farvi vedere un po tutto l'ambaradan qui ho talmente tanta roba ragazzi comunque ecco volevo farvi vedere bene che di cose ne ho prese veramente tante non so se riesco però a metterlo bene a fuoco sto scontrino ma insomma vediamo è fuoco sì più o meno è veramente chilometrico però vi farò vedere meglio beh 130 euro e 41 è un bel botto però diciamo che insomma ragazzi c'erano tante cose che mi piacevano poi stava per arrivare il lockdown quindi giustamente ho detto vabbè facciamo un po di scorta ho preso anche delle cosine carine che magari non erano proprio necessari adesso però diciamo che ho trovato dei capi veramente carini belli belli a un prezzo pazzesco quindi ora andiamo a vederli allora ragazzi primo capo che vi faccio vedere allora non vi farò vedere proprio tutto quello che ho comprato ragazzi perché ho preso anche cose per la casa perché da nkd c'è anche tanta roba per la casa quindi magari io volevo farvi vedere più le cose di abbigliamento allora questo è un completo l'ho preso completo ora vi farò vedere anche il pantalone quindi come vi dicevo negli altri video il monocromatico guardate che meraviglia questo spolverino ora vi dico anche tutti i prezzi è stupendo io con la mani la manichina l'ho messa qua girata ma si può mettere anche giù così ha la sua magliettina uguale sotto e la borsina addirittura era proprio così in vetrina ragazzi cioè troppo troppo carino tutto sul ton sur ton color cuoio il beige questo color cammello io l'adoro adesso ve lo faccio vedere meglio e poi vi faccio anche vedere le altre camicettine che ho preso da mettere in abbinata allora io ho preso una s del dello spolverino guardate un po il prezzo ragazzi mai l'avrei detto che uno scamosciato così veniva un prezzo del genere 29 99 io ho preso la taglia s e l'ho trovata sono fortunata perché invece della maglietta vedete ho preso la m prezzo della maglietta ragazzi sbalordite 5 e 99 è fighissima ha questo disegno qua tipo in paillette e color nude diciamo nude un beige che col color cammello è perfetto però ha la sua cinturina in vita ma si può mettere anche aperto ovviamente vedete anche la fibra ma poi guardate come sono finiti bene ragazzi cioè devo dire che è un marchio nkd mi sta veramente stupendo perché è pazzesco allora la magliettina è così naturalmente poi si può abbinare molto bene con tante cose ma io ho preso il suo pantalone uguale il pantalone uguale al a questo anche questo ha un prezzo pazzesco ora ve lo faccio anche vedere e vi dico anche la taglia che ho preso allora taglia e prezzo ragazzi ho preso una s prezzo 19 99 uguale al al tagliere lo vedete qua pantalone finito benissimo guardate le cerniere guardate i dettagli all'elastico in vita quindi uno sportivo elegante finisce a sigaretta e taglia giusta l'ho trovata perché voi dovete capire ragazzi che nkd comunque veste un po abbondante perché è un marchio che nasce comunque anche per anche per taglie forti non solo ma ha la caratteristica di avere qualità ottima vi dico davvero questo marchio tedesco e pazzesco secondo me verrà su alla grande e prezzi ottimi finiture stupende è morbidissimo cioè è veramente meraviglioso e questo è un bellissimo completo ovviamente come vi dicevo già nell'altro video che ho fatto sulla moda il monocromatico quindi non andiamo a spezzare la figura con altri colori slancia tantissimo oltre alla maglietta che ho fatto vedere sempre per abbinare questo guardate ho anche questo allora scusate se muovo un po la telecamera ma voglio farvi vedere anche vicino allora st'altra camicetta che ho preso con il pantalone perfetta allora questa qui è allora intanto vi faccio vedere il prezzo anche di questa 6 e 99 ragazzi qui ho dovuto prendere la media come vedete però la media l'ho provata va bene ho tenuto tutti i cartellini ragazzi perché ho comprato tutto il 12 marzo come vi ho detto quindi un giorno prima che chiudessero tutto con lockdown la commessa gentilissima ma insomma è il suo lavoro mi ha detto stai tranquilla perché se qualcosa poi non va bene tieni lo scontrino che io ovviamente ho fatto vedere e ho tenuto se qualcosa non va come riapriamo vieni a cambiarlo quindi senza problemi ragazzi anche perché io poi non ho provato le cose lì anche perché so già che una taglia s io normalmente ho una taglia 40 massimo 42 diciamo che normalmente mi vanno perfette con loro sono un po sull'abbondante però diciamo che un pantalone e un tagliore come un completo scusate come questo un capospalla e quindi un pantalone nella taglia s poi ancora con l'elastico in vita non c'è il problema della cintura largo stretta ero sicura la lunghezza della gamba siccome anche un po abbondante io sono un po altina magari mi sta bene anche se metto il tacco anche se questo è un capo che io metterei con un tacco medio basso e adesso vi faccio vedere bene la camicia questa qua che vi stavo dicendo si può mettere anche proprio sotto a questo è anche se io l'ho presa così in abbinata proprio in combo così come era in vetrina ora proviamo a mettercela sotto eccola è stupenda sta benissimo anche con questo prezzo della camicina 6,99 ok 6,99 allora questa ha una manica lunga e un leggero elastichino rimane un po sboffo qua sopra è tutta arricciata sulle spalle scollo a barchetta quindi diciamo che anche poi messa da sola d'estate con un pantalone nero è perfetta e vi ritorno di nuovo a parlare dell'abbinata nero beige nero avorio nero cuoio che è veramente molto molto chic oltre che essere veramente di tendenza è anche tanto tanto elegante ragazzi quindi anche qui abbiamo fatto un bel jolly andiamo avanti altro capo carinissimo è questa camicettina magliettina mi piace molto perché non è né una maglietta né una camicetta vedete com'è fatta ha un dettaglio stupendo una scollatura leggera andiamo a vedere il prezzo 7,99 ragazzi hanno dei prezzi pazzeschi qui ho preso una taglia s di nuovo per fortuna ho trovato la mia taglia è troppo troppo carina è tutta traforata così a questo color avio indaco che è favoloso elegantissimo è leggermente sancrata è questa qui non cade dritta la sua manichina con il dettaglio leggermente sempre a sboffo proprio come sono di moda in questo momento e anche questa con il color cuoio è un altro colore che mi piace veramente tantissimo tantissimo vedete in sottofondo la dietro c'è il sacchetto di tiger una delle ultime cose che ho comprato purtroppo tiger in alessandria ha chiuso mannaggia vabbè comunque questa qui carinissima anche lei questa va beh perfetta con un pantalone bianco beige un jeans diciamo elegantina e un po ricercata ma diciamo splendida anche come capo sportivo e questa è un'altra adesso passiamo al prossimo capo eccoci qua allora qui mi sono lanciata sul rosso fiamma con dei piccoli qua guardate quant'è carina allora qui siamo sui 9 99 e qui ho trovato la taglia dunque vediamo un po qui se ho beccato la s sì s anche perché questa qui è bella abbondantina sbuffo alla manichina vedete sempre con il dettaglio della manica sbuffo che va molto di moda in questo momento la scollatura si ecco taglia s lo vedete la scollatura è così con i bottoncini appena appena arriva però fin qua volendo no volendo si può anche fare una scollatura più profonda si può mettere sia dritta però è arricciata sotto quindi particolare non hanno mai capi troppo scontati oppure si può anche mettere poi con una bella cinturina magari color cuoio o bianca e e fare un bellissimo capo informale da mettere con i jeans da mettere proprio fresco allegro estivo primaverile estivo poi va bene anche la sera io ho voluto prendere un po di questi capi con la manichina lunga perché sinceramente ne ho pochissimi ho sempre magliettine o cosine anche carine anche camicette estive però molto scollate con le maniche corte diciamo che a volte d'estate non fa proprio alla sera caldissimo e quindi magari poi passo a mettere sopra praticamente la giacca invece magari a volte anche mettere una camicettina con la manica lunga poi portare che ne so una giacca spalla è anche molto più elegantino e più carino no anche perché adesso devo dire che il mio fidanzato è uno molto tende a vestire in maniera molto elegante anche sportivo però diciamo molto ricercato quindi mi piace stare bene anche proprio in coppia no essere vestiti un po al sincrono come si vuol dire e quindi questa qua mi è piaciuta e l'ho presa diciamo poi è un rosso caldo che quindi a me come stagione primavera sta bene e quindi ecco sicuramente non prenderei mai un rosso freddo perché i rossi freddi non mi donano come vi dicevo sempre nei video di armocromia fate sempre attenzione se siete caldi a prendere colori caldi e se siete di sottotono freddo a prendere colori freddi e nel video di armocromia vi ho spiegato nel primo video come fate a capire se siete caldi o freddi mi raccomando questa è una cosa importante poi al di là della scelta di vari di vari tipi di colori che possono anche a volte si può fare anche l'eccezione però cerchiamo sempre di stare almeno su tono caldo e tono freddo bene e questo era la camicettina rossa andiamo avanti a vedere cosa c'è sullo scontrino allora vi faccio vedere ancora questa magliettina troppo troppo carina veramente molto molto estiva infatti sono rimasta sulla manica lunga come vi dicevo guardate quanto sta bene insieme al cuoio con quei toni del neutro del giallino cremano e andiamo al prezzo 9,99 ragazzi anche questa un prezzo pazzesco qui ho preso una m taglia m la borsina ve l'ho fatta vedere anche da questa parte perché prima era girata cioè con questo prezzo davvero 9,99 cioè 9,99 è troppo carina cioè sembra di pelle vi assicuro è finita benissimo tenete presente che io non amo acquistare borse in similpelle a poco prezzo perché normalmente non mi piace come sono finita si vede subito eccetera ho fatto un'eccezione perché questa era troppo carina poi talmente piccolina e comoda che si può mettere a tracolla così d'estate non è impegnativa se avete non avete tante cose da portarvi dietro è perfetta la magliettina il suo scollo a barchetta così ed è freschissima freschissima ottimo tessuto e ottime finiture ragazzi le finiture io le guardo sempre anche vi faccio vedere in fondo perché per me contano tantissimo bene il resto che ho comprato a nkd sono cose che riguardano la casa quindi ora non vi sto a far vedere tutto quello che ho comprato perché non è più di abbigliamento però prima di chiudere il video ora vi faccio vedere ancora un abbinamento che ho scoperto che posso fare tra le cose che ho preso ultimamente e non l'ho preso da nkd ora ve lo faccio vedere ecco allora questo è un capo questa camicettina a manica corta che io forse vi avevo anche già fatto vedere perché ho preso qualche mese fa è talmente carina che volevo farvi vedere quanto poco impegnativa in realtà può essere una maglietta così maglietta camicetta diciamo se si è abbinata al pantalone tipo questo di nkd che ho preso adesso in questo colore perché molte persone magari mi dicono sì ma sin di poi queste magliettine in paillettes che piacciono molto a te poi le metti solo abbinate in un certo modo non è assolutamente vero ragazzi io addirittura con il jeans nero l'ho messa e sta benissimo però guardate quanto elegante vedete com'è fatta vi ricordate ve l'avevo già fatta vedere in un altro video perché io la adoro l'ho già messa tantissimo in effetti però diciamo che ovviamente adesso bisogna metterla sotto la giacca perché adesso fa freddo ancora però è veramente bella proprio insieme al color nude cuoio sempre se è chiaro come questo di che ho preso questo completo di cui avete visto adesso vedete il pantalone ma avete visto che sopra al trench per esempio abbinando il trench sopra questa camicetta e questo con magari una borsettina anziché quella sportiva riga che vi ho fatto vedere adesso più elegantina è perfetto ragazzi cioè è veramente veramente carino come abbinata non trovate voi benissimo il video finisce qui ragazzi il mio haul è questo fatemi sapere se vi piace questo brand se anche voi lo conoscete e ci vediamo alla prossima un bacione